Quarta edizione della Rassegna Culturale Bolitani Illustri, in programma domani e lunedì con due giornate di studio e che coinvolge tutti gli istituti scolastici comprensivi e superiori della città. Il primo appuntamento della Rassegna è dedicato a Umberto Nobile, annunciato il responsabile degli eventi culturali dello staff del sindaco Vitoleso, con due giornate di studio, domani e lunedì, giorno della nascita del generale avvenuta a Lauro nel 1885 da genitori e bolitani. Nel primo appuntamento sono coinvolti l'Istituto Tecnico Mattei, il Museo MOA ed alcuni studiosi. È un appuntamento che trasferisce la memoria di chi ha lasciato un segno nella città, detto l'assessore comunale alle attività scolastiche e culturali Angela Lamonica. Invece il sindaco Massimo Carillo parla dell'ampia programmazione culturale, a cominciare da ebolitani illustri, che ha permesso di realizzare reti culturali ed istituzionali. Penso a Matera 2019, che vedrebbe l'invitata alla presentazione al Quirinale. Con noi sono impegnati organismi, scuole ed aziende, una collaborazione ampia. Valorizzare la nostra storia significa creare attenzione e sinergie. Partiamo da Umberto Nobile, poi procederemo con Matteo Ripa e Carlo Levi, con iniziative ed appuntamenti di prestigio.